E' un luogo sacro tra i più amati, dai cittadini di tutta la campagna e non solo, al punto di essere tra le principali mete del turismo religioso della regione. Un luogo ricco di fascino che va oltre la fede, a Monte Vergine in mostra presepi da tutto il mondo. Una collezione unica e suggestiva. La mostra si compone di nove sale. Nella prima, un presepio con episodi della vita di Gesù, donato da Alfredo Marzano. Nella seconda sala, un presepe romano del primo Ottocento. Continuando a passeggiare sala dopo sala, si scopre la notte di Greccio, un presepe abruzzese e uno pugliese di Alberobello. Ma l'atmosfera cambia ancora, così come l'adattamento di un paesaggio siciliano con i ruderi del Tempio Greco, il Golfo di Taormina ed un altro tipico della produzione calabrese. In un'altra sala si ammira una vigilia di Natale di una famiglia dell'Ottocento e un mirabile presepio con effetti di luce. Ma non manca un angolo di Venezia e poi il presepe diventa chiave di racconto oltre i confini nazionali, con l'Argentina, il Perù, il Portogallo, la Danimarca, l'Andalusia, fino ad un sorprendente presepio eschimese. Ma non finisce qui. In mostra quello vietnamita ed infine una riproduzione di quello giapponese. Nella nona sala invece si chiude con un presepe palestinese. A questi si aggiungono centinaia di altre piccole natività, che arricchiscono di fascino questa mostra che è certamente unica nel suo genere.